Mi auguro di trovare delle canzoni e di avere la capacità di individuare delle canzoni che possono durare negli anni. Questo è entusiasmo da ragazzino perché è una di quelle cose che sogna appunto da quando sei ragazzino. Non voglio trattenere l'entusiasmo. Parliamo del settantesimo, della settantesima edizione, quindi c'è un numero importante e quindi quando questa decisione è arrivata il 2 agosto, che ve lo segnerò certamente come data tra le date importanti della mia vita, il 2 agosto 2019, è felice di essere io a condurre questo settantesimo festival e quindi farò in modo che sia un evento nell'evento perché, ripeto, già saremo in per sé un evento storicamente. Ho ovviamente un progetto in testa, però devo dire onestamente non ho ancora pensato perché le cose vanno fatte, se saremo, con i tempi giusti. Nel senso che io non ho ipotizzato nulla prima di avere l'incarico perché non amo fare una cosa senza avere il mandato per poterla fare, senza che se no me la canto e me la sono da solo. Adesso che ho il mandato di avere le idee che in questi mesi o anche in questi anni vado a pensare come poteva essere il mio Sanremo, cerco di metterle in ordine, ma soprattutto la cosa importante adesso che faremo magari la prossima settimana è quella di individuare la squadra di lavoro, gli autori e quindi con loro condividere, con loro e con la RAI poi condividere tutto ciò che riguarda appunto Sanremo perché io amo il lavoro di gruppo e così sarà, sarà un lavoro di gruppo, però non c'è ancora un progetto vero, quindi prima formiamo la squadra di lavoro e poi subito dopo per agosto, diciamo, con fine agosto ci mettiamo a lavorare, prima Sanremo Giovani, il progetto Sanremo Giovani che esprimo, che arriva in ordine cronologico e poi Sanremo, le canzoni, la commissione che sceglierà le canzoni. Ma magari, ma magari potepò sapere con me Chiarello e Giovannotti, ma magari, ma loro sono amici quindi magari ci mettono d'accordo, a me ci faccio una sorpresa, non lo so se che cosa altro posizlie in mente possono farla senza problemi, non mi devono neanche avvisare. Non potrei pensare ad un Sanremo senza pensare a Fiorello che viene a trovarmi, anche senza dirmi cosa vuol fare, perché lui può fare qualsiasi cosa che va a fare sempre alla gratta. Devo dire, Giovanna, per me è importantissima e dico sempre che è quello che riesco, la felicità che ho nel lavoro, perché me la dà lei nella vita privata. Lei sarà felice di seguirmi, di guardarmi, di osservarmi, di consigliarmi, perché è la mia prima consigliera, è la prima persona alla quale mi affido e della quale mi fido. Vediamo che cosa accadrà, altri impegni, altre cose, vediamo. In questo momento ovviamente non pensaremo, stiamo pensando a tante cose, ma non ce n'è una certa, quindi ancora, ripeto, non stiamo ipotizzando proprio l'amma. Mi auguro di trovare delle canzoni e di avere la capacità di individuare delle canzoni che possono durare negli anni, quella è la cosa più importante. Cioè poter dire in quella settantissima edizione c'erano tanti pezzi che dopo magari dieci anni si ascoltano ancora o si ricordano e si collegano a questa settantissima edizione. Siccome è il pezzi della canzone italiana, il primo obiettivo è avere la possibilità insieme al gruppo che ascolterà le canzoni di essere capaci di trovare dei successi. Ecco, questo è il mio obiettivo innanzitutto, pensare alla musica. Grazie.